Aramon figlio della Luce Stellare, che vive in ogni luogo, spazio e tempo, eccomi qui ancora una volta per descrivervi gli ultimi importanti aggiornamenti della Federazione nel mio 49esimo viaggio in astronave. Di fondamentale importanza il messaggio, che l'Aaron Sumas e mio tuttoro in astronave della Federazione Galattica di Luce ha voluto donarci a noi Walkins ed a tutti coloro che seguono l'ascensione planetaria della Nuova Terra. Io sono Amerir Di Maia, anima nell'anima di un Malkin Corpo Missione Davide Russo Diesi. Il racconto del 49esimo viaggio in astronave e il passaggio della Kundalini si approssima. Dall'astronave madre della Flotta Galattica Universale 18 febbraio 2012 ore 3.34 Base di Nemi. I comandanti Ashtar Sheran ancora vivo ed in piena carica e il grande stratega inviato e chiamato dal Sole centrale alla nostra Terra per aiutarla ad ascendere nel nuovo piano dimensionale a e l'ha prescritto secondo Karma Akashico. Egli è attivo risolutore dei piani dimensionali ed è conosciuto come l'essere ultradimensionale capace di risolvere situazioni extraplanetarie complicate e difficili come il nostro pianeta. Caro lettore ti invito a leggere con attenzione questo messaggio planetario diretto a tutti indistintamente da ceto sociale, religioso o politico. Eccomi qui a descrivere il mio 49 viaggio in astronave, un viaggio di estrema importanza per i contenuti ricevuti direttamente per la nostra Ascensione. Vi amo con tutto il mio cuore per sostenermi, io sto facendo la mia parte meglio che posso e nelle mie più estreme possibilità ognuno si prodighi per fare la sua parte nel migliore dei modi e soprattutto nella migliore luce. Questo messaggio ti riguarda personalmente e non leggerlo velocemente. Davide Russo di Esiam Rir di Maya. 49esimo viaggio in astronave e il passaggio della Kundalini si approssima. Siamo giunti al mio 49esimo viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro costante aiuto e sostegno per questo grande piano divino per la Terra, così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo missione di walking in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maya Amrir di Maya. Di Alfa Centauri Ashtar Shiran, di Orione Alcarus, della Lira Erne e di Sirio. A Ramon, è giunto il giorno del mio viaggio nelle stelle e nelle galassie, grazie ai fratelli di luce e dal mio DNA di seme stellare, che puntualmente mi porta a vivere viaggi nella dimensione della luce astrale. In questo importante viaggio il messaggio rivolto a tutti noi abitanti della Terra è di prepararsi al passaggio della Kundalini, prepararsi ad una grande e forte energia, che ci tocchiere in anima e corpo. Molti dei contenuti in questo messaggio potrebbero per alcune persone non preparate, creare reazioni di un certo tipo, propongo pertanto la lettura di questo messaggio con estrema calma interiore, tempo necessario, armonia interiore e pace, elementi fondamentali e requisiti, che devono essere attivati nel ricevere un certo linguaggio cosmico e spirituale. Ricordiamoci tutti, che il linguaggio di un essere ultradimensionale è un linguaggio rivolto all'interiore di ognuno di noi a quel preciso punto metafisico dell'anima dalla quale assorbiamo i raggi di un sole conosciuto come casa o sorgente centrale. Questo messaggio è stato consegnato all'unisono a tutti i figli delle stelle di Terra Valkins, ciascuno ha ricevuto il compito di trascriverlo nella modalità più prossima alla verità, anche se i dettagli in esso contenuti non saranno completamente da me divulgati spero e mi auguro che tutti voi facciate tesoro di questo spazio libero che nel mio non dire crea in voi libero e completo arbitrio se accettare ed accogliere o al contrario. Deridere e giudicare. Io non sono affatto preoccupato di questo ed è proprio per la luce che mi muove che in ogni viaggio ho appositamente sempre omesso quei particolari che avrebbero creato in voi dipendenza. Il mio agire è libero ed è la mia completa parte, non desidero legare nessuno a me e desidero che ascoltiate solo il messaggio di cui sono ambasciatore. Grazie per la vostra comprensione nel capire. Il sole è forte nel cielo e all'orizzonte una danza di aurore si muove nel cielo, colori fantastici ed indimenticabili si stagliano sulla linea tortuosa delle nostre montagne. Osserviamo increduli al miracolo celeste, un tiepido calore estivo ci passa come vento sulle nostre braccia scoperte delle nostre vesti. Siamo un gruppo intero di amici e soprattutto fratelli, siamo appena usciti all'aperto dopo aver terminato la nostra cena e attoniti stiamo osservando il muoversi della calotta celeste e colorare il cielo di arancione, verde, rosso, indaco. Un silenzio attonito ci passa attraverso ed il calore del sole, che stenta a calare ci riflette la mente spirituale di Dio padre e Dio madre io sono Amrir di Maya ora io scrivo. Sono un'astronave in compagnia del mio tutor Aaron, stiamo volando ad una velocità superiore alla luce, e nel mentre navigare un dolce musica multidimensionale attraversa le nostre percezioni io chiedo ad Aaron. Davide Amrir, che musica stiamo ascoltando? Aaron stiamo ascoltando la voce del Dio arte e matematica ti piace? Mi risponde Aaron Sumase Pleiadiano Nordico di Alcione. Davide Amrir si certamente mi piace, riesco però solo a sentire un muoversi di suoni non ben definiti che come veli colorati si stagliano in alto nella mia anima. Aaron Sumase, ascoltali bene e ricordali soprattutto quando sarai rientrato nel tuo corpo fisico perché questi suoni sulla vostra terra ancora non esistono ma stanno per raggiungervi. Davide Amrir cosa intendi con stanno per raggiungerci Aaron? Aaron, intendo questo. Aaron aprì una finestra con il semplice muovere le sue dita sul guscio interno del disco volante e subito si aprì una visione quadrimensionale, un video nuovo di apprendimento per me questo era certo. Nel frattempo sentivo dentro di me scivolare la velocità esterna della piccola nave stellare su cui mi trovavo e captavo la luce di ogni stella salutare la mia mente spirituale, i miei corpi sottili li sentivo scivolare con la luce di quella nave, che scorrendo come un fluido saltava tra un iperspazio ed un altro. Mi venne da chiedere quale fosse la nostra direzione. Aaron Sumase, stiamo volando verso la vostra nuova terra, un pianeta leggermente più piccolo del vostro ma comprati verdi immensi e soprattutto luoghi incontaminati, e la terra nuova preparata per i puri. David Amrir, posso conoscere dove la sua località? Si trova sulle Pleiadi? Aaron certamente figliolo nel nostro quadrante di competenza abbiamo da poco terminato gli ultimi dettagli per potervi sistemare tutti nei vostri nuovi alloggiamenti, siamo fieri delle nostre tecnologie e capacità di costruzione ed architettura in quanto abbiamo fatto del nostro meglio per ricreare il vostro habitat terrestre. Ovviamente abbiamo ricreato una terra di quinta dimensione per voi ove non vive odio ma solo puro amore e grande fratellanza. Non credevo ai miei occhi, in quel video iniziavano a scorrere le immagini di una terra meravigliosa con un'aura indaco, di un colore meravigliosamente luminescente. I suoi cieli senza ombra di dubbio veli di panna montata rosati e poi i meravigliosi campi verdi di erba pura incontaminata, e poi, le case, le case costruite su alberi giganti, alberi secolari, case di legno costruite con corde resistenti e tetti di solida pietra levigata e termica. Il sole il nostro nuovo sole incandescente è paterno come non mai i fiori e tutta la natura esplode di amore e gioia. Tutta questa meravigliosa visione crea in me una domanda precisa. Davide Amrir come l'avete chiamata? Come si chiama questo pianeta meraviglioso? Tutto per noi, non posso crederci è meraviglioso e la nostra terra, identica quando era pura, quando ancora era incontaminata dall'uomo. Aaron, sì figliolo, è proprio lei la vostra madre, la vostra casa ai tempi della purezza creativa, dove ogni elemento era incontaminato, acque pure e cieli trasparenti, questo i vostri antichi lo ricorderebbero bene se potessero raccontarlo alle vostre generazioni. Quel tempo Atlantide era le meraviglie delle meraviglie e gestiva una grande parte del vostro pianeta ed i suoi abitanti puri e saggi creavano vibrazioni d'amore paterno e materno. Abbiamo voluto ricostruirla proprio come quel vostro tempo lontano quando sul vostro suolo vivevano i giganti del sole. Tu sai ricordi vero? Davide Amrir sì Aaron ricordo bene anche se mancano in me alcune memorie di DNA, ma ricordo sì. Aaron sumase la nostra capacità creativa e capace di ricreare ogni cosa, che sia già stata creata ma non che deve essere ancora manifestata dal Dio Uno dell'arte. Questo processo creativo ci permette di potere essere ottimi creatori della vibrazione del simile con simile. Sappiamo rigenerare ogni cellula già creata ma non cellule in via di creazione. Abbiamo studiato a fondo la mente suprema del Dio Luce, ed ora possiamo tranquillamente ricreare tutto ciò che è già creato nell'universo. Questo, spero tu possa comprendere al meglio la nostra civiltà appena ti sarai trasferito qui per la tua ascensione insieme ai tuoi gruppi di pace. Sono certo, che ce la farai perché sai bene cosa ti attende al giorno futuro del tuo quarantesimo ciclo solare. Ti attendiamo con amore e fratellanza sulla nostra casa e potrai se vorrai non rientrare più in terza dimensione e così coloro che avrai portato con te. Potrai scegliere se tornare ad aiutare ancora i fratelli della Terra rimasti in terza luce creativa del Dio Luce ma ciò comporterà l'attesa per te di una nuova partenza futura, sento in te un grande amore per i tuoi simili ed è giusto ed il tuo cuore meriterà la scelta così come è corretta per ciascuno di loro che ancora stanno prendendo la via del cuore. Hai ancora il tempo del trentanovesimo sole per scegliere ma occorre avvisare che la cintura fotonica solare si approssima a passare sul suolo di Tia Amat l'antica Terra. La Kundalini della vostra Terra si sta per risvegliare ed una forte ed inarrestabile energia entrerà nel centro della Terra e sprigionerà un nuovo asse ed un nuovo campo magnetico. Molte terre riemergeranno ed altre spariranno e il Serpente di Luce, che dal suolo della vostra Terra uscirà al cielo creerà un'accensione istantanea e spontanea della vostra energia di base la Kundalini da voi conosciuta come energia del corpo spirituale. Davide Amrirsi, conosco questo futuro e lo attendo con trepidazione. Aaron volevo farti una domanda se posso, cosa accadrà a coloro che non sapranno gestire questa spontanea accensione di energia di spirito? Aaron Sumase della Federazione Pleiadiana risponde Se caro una pietra può resistere a molte vibrazioni prima di andare in frantumi e rompersi. Il vostro corpo è stato progettato per questo passaggio di energia, non vi è nulla di cui preoccuparsi se non che del proprio eterno corpo. Davide Amrirsi ho compreso, puoi essere più profondo nei dettagli del tuo indicare? Virgolette Aaron L'energia del corpo spirituale corpo di luce non è certo per i non pronti, non si strappa via un frutto se è ancora acerbo, solo i frutti maturi saranno in grado di seguire la vibrazione spontanea a arrivare dal centro della Terra. Quando la Kundalini si sveglierà nell'essere preparato a livello spirituale avverrà l'ascensione nel corpo di luce, che non è fuoco ma energia, energia universale, energia solare ed ascensione ossia la scomposizione e la ricomposizione delle proprie molecole atomiche in un corpo più sottile, direi erterico se mi è concesso. Davide Amrirsi Certamente capisco. Scusa la mia insistenza dovuta alla mia poca risvegliata mente spirituale ma coloro che non sono pronti? Aaron Sumase risponde Coloro che non sono pronti si preparino ad essere pronti perché il Dio Padre Solare vi ha mandati per prepararli a crescere per quel momento proprio per evitare perdite inutili di anime che si ritroveranno a ripercorrere la stessa via per una nuova volta. Vedi figliolo questa energia è un'energia che è capace di trasformare un DNA umano in un DNA divino senza poter ritornare indietro allo stato precedente. Coloro che non saranno in grado di gestire la vibrazione di questa cintura solare avranno un aiuto dai noi fratelli dell'universo ma solo se lo vorranno veramente e ci considereranno come fratelli della stessa madre e dello stesso padre, al contrario se non crederanno in noi in quell'istante adderrà in loro quello che chiamate da voi una combustione spontanea. Non possiamo forzare la decisione per voi, solo la vostra fede nelle gerarchie di fratellanza bianca potranno aiutarvi in quegli attimi di passaggio vibrazionale. Desidero che tu comprenda bene figlio della luce. Il Divino ha pensato a tutto, vi sarà dapprima una messaggio durante un sogno, che tutti gli abitanti della Terra faranno. Tutti voi quella mattina vi alzerete e vi racconterete un sogno. In quel sogno ci sarà la presenza del vostro Dio come lo conoscete che vi parlerà attraverso le vostre religioni e filosofie per avvisarvi tutti, che quel tempo è giunto. Dopodiché molti di voi penseranno ad uno scherzo di scala mondiale accusando qualche potere terrestre ad avere generato tutto questo per una grande pubblicità in grande stile con forse una nuova tecnologia. I più esperti non avranno dubbio, che si tratta dell'avviso ai puri. L'avviso ai puri sarà ascoltato dai puri in grande scala e coloro inizieranno il viaggio per raggrupparsi prima di ascendere. Da quale giorno del sogno comune passeranno circa venti giorni di buio per quelle anime che tenteranno di comprendere gli eventi. In quei giorni non dovrete tentare voi puri di convincere nessuno, perché solo la loro anima potrà scegliere il viaggio e nessun altro per loro. Per ogni essere vivente vive un piano di esatta perfezione e non vi è da preoccuparsi. Le famiglie saranno riunite così i vostri animali domestici saranno riuniti ai corrispettivi familiari. Di questo non dovete preoccuparvi, iniziate fin da ora a divulgare queste mie parole perché lo vuole la gerarchia bianca universale in coordinamento con la nostra federazione pleiadiana nordica. Desideriamo che tutti voi possiate prepararvi per tempo ed è per questo motivo che abbiamo donato ai puri di talento la possibilità di essere ambasciatori contattati dalle nostre autorità di sostegno al piano divino. Io sono Aronora, che comunica con te in questo quarantanovesimo viaggio. Divulga questo contatto fratello terrestre, divulga queste nostre informazioni ai comuni terrestri, che attendono con ansia, che tu trascriva. Lo so il tuo corpo è molto stanco dalle numerose partenze, che stai tentando di creare nei cuori dei tuoi simili, non abbandonare ora, non abbandonare. La nostra luce ti sta sostenendo in tutto, non abbandonare ora. Davide Amrir, grazie Aaron, grazie. Porterò a termine ciò che mi chiede la tua razza attraverso di questo contatto oggi. Prego Dio luce di darmi la forza necessaria in quanto qui con te ogni cosa mi è assolutamente chiara, ma nel momento dove il mio corpo discende in terza dimensione tutto diviene molto, molto pesante. Aaron hai un ottimo amico, Amrir. Affidati al suo sapere vedrai anche se ancora studente su Maya per noi di Alcione e un grande futuro maestro. A presto figliolo e non dimenticare di non abbandonare la tua missione, ti sosteniamo e sentiamo i tuoi pensieri sempre. Porta a termine il tuo compito e sarai libero dal tuo ultimo karma. A Ramon. A presto. A questo scritto non sarà aggiunto nessun commento, in quanto parla da solo, per chi copia ed incolla si prega di rispettare almeno la fonte e di non modificare il testo in nessuna delle sue parti, grazie. PS se trovate errori mi scuso ma non ho molto tempo per tutto e sono sempre di corsa, mi scuso per gli eventuali errori grammaticali, vi prego di indicarmeli se ne trovate. Walk in Amrir di Maya in corpo missione di Davide Russo di Esi.